Eccoci qua cari amici ben ritrovati dal vostro Giuseppe De Vitis. Pochissime variazioni, anche se abbiamo avuto un piccolo cedimento dell'alta pressione, avremo anche nella giornata di giovedì un rimescolamento parziale dell'aria e quindi cielo poco o parzialmente nuvoloso, qualche sprazzo di sole in più, come potete osservare dalla nostra grafica. Ma la sostanza non cambierà, l'anticiclone ritorna di nuovo dopo aver fatto un piccolo passettino ma proprio impercettibile indietro, ritorna a fare un passo convinto in avanti e quindi di nuovo situazione statica sul nostro territorio, con temperature che abbiamo visto senza grandi variazioni sia nei valori minimi che nei valori massimi. Non ci sono novità per il momento, io vi do appuntamento ai prossimi aggiornamenti meteo, arrivederci!